Il nuovo film di Disney interpreto Mangiafuoco, che in realtà nella versione cinematografica del 40 e anche in questa, ha un nome diverso, si chiama Stromboli. Siamo rimasti abbastanza fedeli perché nella versione animata Stromboli Mangiafuoco era di origine italiana, per quello si chiama Stromboli. Il regista, il Zemeckis, mi ha chiesto di spingere molto in quella direzione, la direzione dell'italo-americano, di un personaggio che possedesse un inglese stentato. Amo molto questa fiaba perché mi fa soffrire ed emozionare tanto. Pinocchio soffre tantissimo e facciamo fatica a sopportare anche la sua sofferenza e cerchiamo di superarla pensando che per metà è fatto di legno. Ma in realtà poi quello è un bambino che scopre piano piano la consapevolezza di sé, scopre il significato del coraggio, della solidarietà, partendo da una condizione da bambino, di quello che fanno tutti i bambini, che dicono le bugie, che non vogliono studiare, che non vogliono fare niente, che pensano solo a mangiare e a divertirsi. E questo è normale, è una cosa che noi perdiamo con l'età, più o meno, quasi tutti, però è una cosa che appartiene molto ai bambini. Non capita tutti i giorni a un attore italiano di far parte del cast di un film internazionale. Io ho avuto questa fortuna di lavorare a fianco di attori con i quali sono cresciuto, soprattutto Tom Hanks. Pinocchio uscirà l'8 settembre su Disney+. Ho un rapporto particolare con questa piattaforma perché posso vedermi le cose con cui sono cresciuto e che non smetterò mai di vedere.